Dal Vangelo di Luca In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e gli chiese Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza E con tutta la tua mente E il tuo prossimo come te stesso Gli disse Hai risposto bene Fa questo e vivrai Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù E chi è il mio prossimo? Gesù riprese Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico E cadde nelle mani dei briganti Che gli portarono via tutto Lo percossero a sangue e se ne andarono Lasciandolo mezzo morto Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada E quando lo vide, passò oltre Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre Invece un samaritano che era in viaggio Passandogli accanto Vide e ne ebbe compassione Gli si fece vicino Gli fasciò le ferite Versandovi olio e vino Poi lo caricò sulla sua cavalcatura Lo portò in un albergo E si prese cura di lui Il giorno seguente Tirò fuori due denari E li diede all'albergatore dicendo Abbi cura di lui Ciò che spenderai in più Te lo pagherò al mio ritorno Chi di questi tre Ti sembra sia stato prossimo Di colui che è caduto nelle mani dei briganti Quello rispose Chi ha avuto compassione di lui Gesù gli disse Va E anche tu Fa così Sorelle e fratelli carissimi Il Vangelo di questa domenica È una delle pagine più conosciute La parabola del buon samaritano Una delle più belle Forse insieme con quella del Padre misericordioso E dei suoi due figli Una parabola che ci interroga Una parabola che ci mette in discussione Una parabola che deve anche inquietarci Nella nostra vita di credenti Essa è ambientata Nella strada che da Gerusalemme scende verso Gerico Una strada lunga 27 chilometri Con un dislivello di circa mille metri Perché Gerusalemme sorgeva sul Monte Sinai La cui altezza è circa 700 metri E Gerico era nella depressione più profonda del mondo Oltre 200 metri sotto il livello del mare Questa strada attraversava il deserto della Giudea Ed era pericolosissima Tanto che normalmente Essa veniva percorsa solo in carovana Una strada che Gesù conosceva bene Perché già da bambino Insieme con Giuseppe e Maria I suoi genitori L'aveva percorsa per andare al Tempio di Gerusalemme Come ogni buona famiglia ebraica faceva Su questa strada camminava tanta gente Che come dicevo lo faceva in carovana Però non mancavano anche persone Che lo facessero singolarmente Gerusalemme aveva la capacità di rappresentare Tutto ciò che era sacro Tutto ciò che era santo In essa c'era il Tempio di Gerusalemme L'abitazione di Dio In essa si facevano i sacrifici In essa si pregava Gerico invece rappresenta la classica città moderna La città del commercio La città degli affari La città del denaro E ahimè anche la città della corruzione Gerico era una città ricchissima Proprio perché il commercio fioriva C'erano delle terme Le persone la utilizzavano per le loro vacanze La utilizzavano per passarci l'inverno Perché il periodo invernale a Gerico Era praticamente primavera E gli stessi sacerdoti Avevano le loro abitazioni In questa città Proprio per passarvi l'inverno C'era la produzione di un balsamo preziosissimo Che era conosciuto in tutto il mondo C'era la frutta migliore del mondo Come ancora oggi Dicono gli abitanti di questa città E quindi c'era veramente tanta gente Tanto commercio Tanta corruzione Tanto era santa la città di Gerusalemme Tanto era peccatrice per così dire Corrotta la città di Gerico A Gerico c'era anche Zaccheo Colui che era il responsabile Dell'ufficio che faceva pagare le tasse A nome dei Romani E le sue ricchezze erano stratosferiche Come sappiamo dalla sua storia Quindi insomma una città dove il denaro Era molto abbondante E correva molto generosamente Da una mano all'altra Non sappiamo chi fosse colui che scendeva Da Gerusalemme a Gerico Se era un ebreo o era uno straniero Se era giovane o era adulto o anziano Non sappiamo se era ricco o povero E non sappiamo il motivo per cui era andato A Gerusalemme Se per offrire sacrifici al Tempio O per fare i suoi affari Sappiamo soltanto che era un uomo E questa sua umanità ci deve interessare Perché l'uomo mai perde la sua dignità Qualunque sia la sua condizione Qualunque siano i motivi Che lo hanno messo in movimento Questo uomo si imbatte nei briganti I quali lo assalgono Lo derubano E lo lasciano mezzo morto Sul ciglio della strada Dopo averlo anche denudato Cioè dopo avergli fatto perdere La sua dignità Di cui le vesti sono espressione Lungo quella strada Nella stessa direzione Quindi consapevoli Dei rischi e dei pericoli Che ci potevano essere Passano prima un sacerdote E poi un levita Il sacerdote era colui Che faceva le preghiere Che offriva i sacrifici nel Tempio Il levita era come un nostro sagrista Come un volontario Delle nostre parrocchie Entrambi profumavano ancora di incenso Entrambi avevano ancora Nelle orecchie e nel cuore Le melodie dei salmi Le parole delle preghiere Che avevano pronunciato Poteva essere per loro L'occasione migliore Per mettere in pratica Ciò che avevano pregato Per mettere in pratica Ciò che avevano sperimentato Nel Tempio E invece cosa fanno Entrambe queste persone Persone di Chiesa Come diremmo noi oggi Vedono, si rendono conto Di ciò che è davanti ai loro occhi Ma passano addirittura Dall'altra parte della strada Proprio mettono distanza Fra sé e quel malcapitato Che pure si trovava sul crinale Fra la vita e la morte Dipendeva da chi avesse incontrato La sua salvezza O la sua rovina Se uno si fosse interessato a lui Poteva essere salvato Se uno non si fosse interessato a lui Era destinato certamente A morte certa Poi Gesù dice Che passa una terza persona Passa un samaritano Probabilmente si sarebbe Si sarebbero aspettati Gli ascoltatori di Gesù Che dopo il sacerdote Il levita Gesù facesse entrare in scena Un pio giudeo Un laico Che però era timorato di Dio Invece Gesù mette in scena Un samaritano I samaritani non avevano Buoni rapporti con i giudei E anzi Dire a una persona samaritano Era offenderlo Nel modo peggiore possibile Solo dando del pagano A una persona lo si offendeva di più Dire a una persona samaritano Era dirgli che era Sostanzialmente un bastardo Un eretico Una persona che non apparteneva più Al popolo eletto Si erano infatti Mischiati Con le altre popolazioni Avevano rinnegato Il tempio di Gerusalemme Costruendosi un tempio Sul monte Garizim E avevano messo da parte Anche una gran parte Dell'Antico Testamento Rispettavano soltanto la Torah Avevano messo da parte I profeti I salmi E i libri sapienziali Quindi c'erano delle motivazioni Per cui agli ebrei samaritani Non piacessero Dire samaritano a una persona Era come vi accennavo Offenderlo Tanto che Questa offesa Era punita Con i 40 colpi Meno uno Una delle punizioni peggiori Che ci potessero essere Eppure Gesù fa intervenire Proprio lui Un samaritano Che noi chiamiamo buono Ma che nella parabola Non ha aggettivi Anche lui Come l'uomo È solo un samaritano È una persona Che come il sacerdote E il levita Vede Ma al contrario Del sacerdote E del levita Si fa vicino E soprattutto Si lascia prendere Dalla compassione A viscere di misericordia Come quelle di una mamma Nei confronti Del proprio bambino Come quelle di Dio Nei confronti del popolo Infatti Il verbo che Gesù utilizza È lo stesso verbo Che Dio utilizzò Per definire se stesso Davanti a Mosè Sul monte Sinai Io sono un Dio Misericordioso Io sono un Dio paziente Ricco Di misericordia E di amore Ed infatti In tutta la Sacra Scrittura Questo verbo È sempre riferito O a Dio O a Gesù Solo in questa pagina È riferito a una persona E questa persona È un samaritano Egli quindi Vede Vede come vede Dio Vede la dignità Di questa persona Vede il disagio Di questa persona E si avvicina Si avvicina Proprio perché Ha nel suo cuore Gli stessi sentimenti Di Dio Oltre che Lo stesso sguardo Di Dio E agisce Come Dio Si fa avvicino A questa persona Se ne prende cura Non pensa Ai suoi affari Ai motivi Del suo viaggio Ai rischi Non ragiona Secondo la sua mente Ragiona Secondo il suo cuore E poi lo porta In una locanda In una locanda In cui Vengono accolti tutti Perché nel cuore Di Dio C'è spazio Di tutti E paga Per questa persona Come Gesù Ha pagato Per tutta L'umanità È bello Ciò che Gesù Dice Al dottore Della legge Che lo interrogava Perché questa parabola È frutto Di un dialogo Che Gesù Stava facendo Con un dottore Della legge Che va da lui Per metterlo Alla prova Lo stesso verbo Che il Vangelo Utilizza a proposito Del demonio Che tentava Gesù nel deserto All'inizio Della sua vita pubblica Il quale Aveva chiesto A Gesù Cosa devo fare Per avere La vita eterna E Gesù Gli risponde Con una domanda Cosa sta scritto Nella legge Come la leggi Questa legge Che tu conosci Così bene E il dottore Della legge In effetti Risponde benissimo Perché risponde Che la vita eterna La vita dell'eterno Si può ottenere Se si ama Dio Con tutto il cuore Con tutta l'anima Con tutte le forze E con tutta la mente Perché Dio Non può essere Una parte Della nostra vita Non può essere Un settore Della nostra esistenza Deve essere presente Nel nostro cuore Lo dobbiamo amare Con tutta la nostra esistenza Con tutto ciò Che abbiamo E possediamo Con tutte le nostre capacità E il dottore aggiunge Con tutta la mente Perché lui era uno Che dedicava la sua vita Allo studio della scrittura E aggiunge poi anche Una seconda pagina Della Sacra Scrittura Questa pagina prima Era dal Deuteronomio Ogni Pio ebreo La ripeteva due volte al giorno Nello Scema Israele Lui aggiunge una pagina Del Levitico Al capitolo 19 Mettendo insieme All'amore di Dio Anche l'amore del prossimo E Gesù appunto Gli risponde Hai detto bene Fa questo E vivrai Hai capito Che il segreto Della vita È l'amore Hai capito Che solo amando Dio e il prossimo Tu potrai essere felice Tu potrai avere La vita dell'eterno Ma il dottore Gli vuole porre un limite Vuole salvarsi In calcio d'angolo E gli dice Ma chi è il mio prossimo? Infatti per gli ebrei Secondo alcuni Il prossimo erano i familiari Secondo altri Gli abitanti Del proprio villaggio Secondo altri Tutti gli appartenenti Al popolo degli ebrei Ma delle altre persone Non bisognava interessarsi Gesù raccontando La parabola Del samaritano buono Dice a questo dottore Della legge Che bisogna capovolgere Il modo di pensare Di parlare Di agire Non chi è il mio prossimo? Occorre farsi prossimo E quindi dopo la storia Gesù pone la domanda definitiva Chi pensi Si sia fatto prossimo Per quella persona Che era sul bordo Della strada? Il dottore della legge Non ha nemmeno il desiderio Di nominare il samaritano Per ciò che vi ho detto Perciò dice Colui che ha avuto misericordia Colui che si è avvicinato Colui che ha amato E Gesù conclude dicendo Va e anche tu Fa lo stesso E' la stessa cosa Che dice a me Che dice a ciascuno di voi Fratelli e sorelle carissime Dobbiamo andare Sulla nostra strada Che a volte è in salita Come la strada Che vedete Alle mie spalle Come la strada Che andava Da Gerusalemme A Gerico E quindi Pur con tutte le difficoltà Noi dobbiamo andare E su questa strada Amare Perché l'amore viene da Dio E perché solo chi ama Conosce Dio Che andava Grazie a tutti.